Come faccio ad archiviare efficacemente le mie fotografie? Questa è una domanda che mi avete fatto in tanti, oggi non andremo a dare una risposta univoca posto che questa risposta univoca esista, però andrò a farvi vedere come io archivio le mie immagini, quindi come vado a immagazzinare anche grandi quantitativi di immagini nella maniera si spera sempre più efficace e più efficiente. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia, video e tutto quello che ci sta di mezzo, ovviamente si parla di file che hanno un peso, perché quando io faccio un servizio fotografico torno a casa con la memory card piena e magari mi ritrovo con 12 giga di foto, 20 giga di foto, sono pacchetti abbastanza grossi che non sono facilissimi da immagazzinare, sto pensando per esempio a chi utilizza uno smartphone, spesso e volentieri ci si trova con la galleria piena di fotografie, la maggior parte delle quali anche di qualità non eccelsa e quindi sarebbe il caso di andare a sfoltirle buttando quantomeno via i doppioni. Nel mio caso non faccio nemmeno questo perché trattandosi di servizi fotografici per dei clienti conservo tutto per almeno 90 giorni. Nel corso del video di oggi però andiamo a vedere come immagazzino questi materiali in maniera da non diventare matto. Se argomenti come questo possono essere per voi di interesse io vi invito innanzitutto a iscrivervi al canale e poi a lasciare anche un like a questo video così mi date anche una mano. Comincio col dirvi che da qualche tempo immagazzinare i file sul telefono o sul computer per me è diventato assolutamente controproducente nel senso che i dispositivi che abbiamo a disposizione, parlo dei vari iPhone ma penso che anche i competitor si comportino più o meno nello stesso modo e i computer, quindi io parlo dei computer Apple nella fattispecie i Mac da tavolo ma penso che funzioni un po' così anche se si usa qualcos'altro, hanno tutti delle memorie che non stanno crescendo. C'è stato il momento in cui c'è stato il boom delle memorie via via sempre più grandi. Io mi ricordo i primi computer che avevo avevano dei dischi di avvio con su una quantità di memoria assolutamente ridicola se paragonata a quelli di oggi e man mano queste memorie cresceva perché doveva continuamente adeguarsi al fatto che facevamo foto sempre più belle, video sempre più pesanti e quindi le memorie si adeguavano. Questo fenomeno si è arrestato, le memorie non si stanno più adeguando perché un bel momento hanno detto io ti do una ssd da 120 giga, una ssd da 250 giga, basta, quello è, non ti do più memoria, se vuoi più memoria te la compri e quindi diventa chiaramente un problema archiviare grandi quantità di file perché lo spazio non è eterno e un bel momento lo spazio finisce e quindi dobbiamo acquistarne di nuovo e costa. Ecco che dobbiamo andare a cercare di spendere il meno possibile trattando il meglio possibile i nostri file. Bisogna fare secondo me un po' di distinzioni ovvero bisogna distinguere tra sistemi di archiviazione hardware e sistemi di archiviazione cloud. Per intenderci un sistema di archiviazione hardware può essere questo. Questo è un Western Digital Elements da 2 tera, è un hard disk esterno piccolo, tascabile, questo ci sta nella tasca dei jeans, con una bella capienza perché qui sopra ci stanno secondo me anni di lavori, anni di foto, anni di video. 2 tera comunque sono tanti, non è facilissimo riempirli. Quindi su un affarino come questo noi possiamo immagazzinare un grande quantitativo di file. Possiamo andare a gestire questi piccoli device come meglio crediamo, possiamo farne uno all'anno se facciamo tanto materiale, ci mettiamo su una bella etichetta con scritto l'anno, ne teniamo due. Quindi facciamo il backup ovviamente e li teniamo in due posti separati perché se dovessimo perderne uno o se uno dovesse rimanere danneggiato abbiamo il backup da un'altra parte. Quindi è estremamente importante fare sempre il backup di queste cose. La seconda cosa che possiamo fare è una soluzione cloud, quindi andare a immagazzinare i nostri file anche su una piattaforma online. Ne esistono di diversi tipi. Noi possiamo andare a rivolgerci a servizi come Dropbox, possiamo rivolgerci a servizi come Google. Una volta si chiamava Google Drive per i privati, anzi si chiama ancora Google Drive. Esiste una versione diciamo per i professionisti, per le aziende che adesso si ha cambiato nome cento volte, adesso si chiama Google Workspace ed è quella che io utilizzo attualmente. La cosa che mi piace molto di Workspace è che io posso prendere i miei file, ce li ho sul mio hard disk, ce li ho sul mio backup, mai sul computer, perché il computer comunque come detto le memorie sono SSD e non sono mai tanto capienti, quindi riempirlo di file significa ammazzare la macchina, quindi tutto su hard disk esterni. Li metto sul mio hard disk principale, che in questo caso è un altro Western Digital, uno da 8 tera, quindi è uno con cui sono assolutamente sereno sul lungo periodo. Sono device che io non ho mai visto dare problemi, quindi non dovrebbero né rompersi né niente, però in ogni caso ho anche i backup sugli elements, quelli più piccolini. La cosa molto comoda del cloud però, meglio le cose comode sono due. La prima cosa è che ovunque io sia, sono fuori città, sono via per un lavoro, torno in camera, in albergo dove cavolo mi trovo, attacco il mio laptop e posso caricare tutto su Google Drive e in questo modo, o su Google Workspace se ho la versione per aziende, in questo modo io sono sicuro che anche se mi rubano la memory card, anche se mi prende fuoco il computer, anche se mi rapiscono gli alieni, da qualche parte a casa io quando riesco a liberarmi dagli alieni posso accedere ai miei file perché li ho salvati con successo lì. Ovviamente capite bene che qual è la soluzione migliore tra queste? Nessuna, tutte, purtroppo secondo me per essere sereni bisogna farle tutte. Io non sono tranquillo se non ho messo i miei file in tutte e tre questi recipienti perché comunque ho proprio la sensazione di starmi perdendo qualcosa, sensazione ovviamente finta perché poi non si perde mai niente, però per sicurezza io quando torno da un servizio fotografico immagazzino i file innanzitutto sull'hard disk connesso al computer principale su cui sto lavorando. Quando termino la sessione faccio il mio backup, non lo faccio tutte le volte, magari lo faccio una volta al mese, però faccio il mio backup sulla periferica più piccolina e contestualmente carico anche i file su cloud. Ora c'è un'ultima cosa che vi voglio segnalare ed è la possibilità di immagazzinare le immagini su Amazon Photos. Ora voi direte cosa c'entra Amazon? Beh per chi sta pagando come me un abbonamento Amazon Prime c'è un diritto che la maggior parte di noi non rivendica che è incluso nel pagamento di Amazon Prime, quindi con l'abbonamento base noi abbiamo il diritto di caricare le nostre fotografie sulla piattaforma Amazon Photos e abbiamo spazio illimitato per i file fotografici, mentre abbiamo 5 giga per i video, mi sembra una roba del genere, quindi video vi direi di non farlo perché superati 5 giga o pagate un extra o non potete più caricare, non so neanche come funzioni perché tanto i video lì io non li metto, ma per quanto riguarda le foto noi abbiamo la possibilità di caricare un numero illimitato di immagini. Ora prendiamo con le pinze questa cosa perché nel momento in cui sto girando questo video funziona così, ma io ho la memoria lunga e mi ricordo che anche Google, quando si chiamava G Suite, mi sembra che si chiamasse, ti dava a disposizione lo spazio pressoché illimitato, cioè tu potevi continuare a caricare roba e non si incepava mai, continuavi a caricare roba e lui continuava a prenderla e non ti diceva niente. Un bel momento quelli di Google hanno detto, e hanno anche ragione, hanno detto ragazzi quest'anno abbiamo dovuto costruire tre grattacieli alti 90 piani con dentro tutti dei server per immagazzinare tutti questi file illimitati che abbiamo permesso alla gente di caricarci su. Non ci stiamo più dentro, dobbiamo aumentare i prezzi, quindi hanno tolto lo spazio illimitato e adesso se vuoi lo spazio in più lo paghi a peso d'oro. Secondo me Amazon fa esattamente la stessa fine perché adesso magari non lo stanno usando in tantissimi, molti non lo sanno, adesso che ve l'ho detto io correrete in massa a provarlo e quindi già si ingolferà un pochino magari, per il momento è illimitato, però io sono sicuro che prima o poi questa cosa la tolgono e mettono un piano perché se siamo miliardi di persone, se miliardi di persone si mettono a caricare miliardi di foto al giorno lo spazio illimitato non lo puoi più lasciare, quindi per ora è illimitato ma aspettiamoci che un bel momento diventi con degli slot e a seconda di quanto carichi finisce che paghi qualcosina in più. Per il momento abbiamo lo storage illimitato per cui è molto comodo nel momento in cui io ho i definitivi, quindi un lavoro finito, lo vado a caricare per intero su Amazon Photos così è un'ulteriore sicurezza. Se io dovessi nuovamente venire rapito dagli alieni e magari mi trattenessero il cellulare perché gli alieni sono interessati alla nostra tecnologia e quindi ci studiano, mi mettono una sonda nel cervello però poi riesco a liberarmi, quando torno a casa mi hanno rubato anche il computer magari però io entro nel mio account di Amazon e ho lì i miei lavori finiti e posso riscaricarmeli, quindi anche questo se abbiamo Amazon Prime che è già pagato è incluso, quindi è uno strumento in più che possiamo utilizzare. Ora vi faccio una menzione particolare, questo piccolo affarino io lo comprai quando feci la collaborazione con Panasonic perché questo è l'unico modo per registrare video con le loro videocamere nei formati più professionali, quindi questo è un piccolo hard disk esterno a stato solido e la cosa che ho trovato molto interessante è che si connette tranquillamente al computer col suo cavetto, giustamente per scaricare i file dalla videocamera dopo che ho finito di registrare, la cosa interessante di questo è che mi permette di lavorare in maniera più veloce perché normalmente io scarico i miei file su degli hard disk di grossa capienza, gli hard disk di grossa capienza non sempre sono a stato solido e quindi possono essere un po' più lentini, quindi la cosa che ho trovato molto utile è quando torno a casa da un lavoro immagazzino momentaneamente i file su questo, poi faccio il mio backup, li metto anche sul mio hard disk principale, ok? Però li metto su questo e nel momento in cui ci lavoro, quindi faccio la post produzione, faccio un montaggio video, faccio uno sviluppo digitale, i file sono immagazzinati su questo, io lavoro su questo, faccio tutto quello che devo fare una volta che il lavoro è finito, che il cliente l'ha approvato e quindi che posso chiudere la pratica, diciamo così, trasferisco questi file lavorati sui miei hard disk, sul mio google drive e eventualmente se sono immagini sul mio amazon photos. Ho riscontrato che ne ho dei benefici nel senso che avere i file su questo e lavorare quindi da questa memoria mi porta a un beneficio in termini di velocità, lavoro più velocemente, la lettura dei file è più agevole, quindi è una cosa che è una cosa in più, non sto a consigliarvi di fare questa cosa, però io ne ho riscontrato un lievissimo, lievissimo beneficio, non è che ti cambia la vita però qualcosina vai a migliorare in termini di tempo della lettura dei file. A questo punto amici io interrompo qui questo video perché voglio mantenerli un po' corti in maniera che siano facilmente fruibili per tutti, vi chiedo come sempre lasciatemi sapere nei commenti se fate qualcosa di diverso, se secondo voi ho dimenticato tralasciato qualcosa e invece se vi ho salvato la vita perché stavate impazzendo a gestire i vostri file. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale perché se argomenti come questo vi interessano ne arriveranno degli altri e così riuscite a tenervi un pochettino aggiornati su tutto quello che orbita intorno al mondo della fotografia, del video making e perché no anche del design. Io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video.